sono confuso, sono triste, sono spesato, non so cosa pensare in questo momento voglio perché non già voglio questo calciomercato è forse quello che più mi sta snervando da quando vivo è vero che lo dico ogni giorno, ogni giorno, ogni anno ogni anno lo dico sempre questo però voglio veramente sta superando qualsiasi cosa ho l'ermanito, sono GA7, quello che tiene le tette, le racchette, le lavagnette, le rocchette e non le manette perché non ho le mitragliette ed anche la intro più cringe e meno divertente di tutta YouTube Italia e benvenuti in questo nuovo video in cui parliamo di calciomercato parliamo di voci di mercato e parliamo di Giacomo Araspadori ma prima di farlo ragazzi come sempre voglio invitarvi a scaricare dal link in descrizione la migliore applicazione per quanto riguarda il mondo del calcio ragazzi sto parlando ovviamente di numero 10 andate a scaricarla tutti quanti ragazzi non ve ne pentirete numero 10 rappresenta il futuro è completamente gratuita dunque unitevi all'evoluzione unitevi alla rivoluzione e fatelo scaricando in maniera completamente gratuita numero 10 dal link in descrizione allora vai giù ieri è cagato cazzo tutta la giornata che non ci potremmo fare fottere a Raspadori è cagato cazzo tutta la giornata che non ci potremmo fare fottere a Simeone è cagato cazzo e continuerò a cagare cazzo finché non arrivo a portiere perché a cussi cioè io questo farò da questo momento sarò cagacazzo voglio già essere cagacazzo bisogna lottare perché non è possibile stiamo al 3 di agosto ok? siamo al 3 di agosto io ogni giorno dico la stessa cosa con la differenza che poi passa sempre un giorno quindi in questo momento mancano 11 giorni a quando scenderemo in campo e ad oggi teniamo una squadra che probabilmente per tre quarti non sarà quella lì a settembre voglio sperare che dovrà iniziare il campionato a settembre altrimenti veramente la situazione può essere assolutamente problematica e soprattutto ci sono dei calciatori che devono entrare in particolare il vice Osemen in particolare il tre quartista per sostituire Dries Mertens io spero un esterno destro in particolare e soprattutto il portiere probabilmente un tre quartista se dovesse andare via Pietro Zenitschi io già ho detto 5 operazioni solo in entrata veramente stiamo parlando di una situazione cagacazzo voglio mettere a chiagni ci vuole pure il centro campista ci vuole pure il centro campista se si vuole tornare al 4-2-3-1 perché ragazzi Spalletti vuole tornare al 4-2-3-1 Spalletti vuole giocare col 4-2-3-1 possiamo girarci intorno quando vogliamo noi Spalletti Luciano Spalletti vuole giocare col 4-2-3-1 anche perché è il modo migliore per far rendere Victor Osemen questa è la verità perché altrimenti si trova troppo spesso troppo isolato si trova troppo spesso messo in dei canali troppo stretti che diciamo non vanno ad esaltare quelle che sono le sue caratteristiche e il Napoli deve metterci qualcuno vicino che possa aiutarlo e che possa stare al suo passo e quello di cui sto parlando ragazzi è ovviamente Giacomino Raspadori e questa è la verità ragazzi perché è quello più adatto a questa situazione forse anche più adatto secondo me di Mertens con tutto che Mertens con Osemen faceva faceva benissimo Mertens con Osemen Osemen faceva benissimo quando c'era Mertens in campo i due si trovavano veramente alla perfezione Driss riusciva a stare al passo non dal punto di vista della velocità ma dal punto di vista mentale e tecnico riusciva a compensare quella mancanza di velocità stando al passo dunque con Victor Osemen facendo sempre partite secondo me eccezionali permettendo ad Osemen di imbucarsi e di aprirgli gli spazi io penso che Raspadori possa essere ancora più adatto perché magari non ha quell'intelligenza tattica nonostante comunque sia uno molto intelligente tatticamente però Driss ragazzi è un altro livello è uno tecnicamente molto valido è uno anche veloce dalla grande esplosività e questa è una cosa fondamentale che secondo me può essere ancora più adatto dunque a Victor Osemen di che cosa si parla ragazzi? perché parliamo della situazione riguardante Jack Raspadori ancora una volta? sì lo so voi io ne parlo almeno una volta al giorno non fa niente lasciatemi stare fatemene parlare anche 15 volte al giorno perché sento ma va necessità parlare a Raspadori finché non arrivi io ne parlo finché non arriva io ne parlo perché ne parlo? perché Gianluca Di Marzio dopo aver detto l'altro ieri che è un derby tra Napoli e Juve che ci sarà un incontro tra Napoli e Juve ha confermato l'incontro tra Raspadori e la Juve ha confermato l'incontro per arrivare a Raspadori gli agenti di Raspadori vogliono capire quelle che sono le intenzioni della Juventus Raspadori ha chiesto ufficialmente la cessione alla Juventus al Sassuolo la Juventus potrebbe anche essere battutina, battutaccia non facendo niente ridere ufficialmente ha chiesto dunque la cessione al Sassuolo e questa è una cosa che potrebbe sbrigare la velocità dell'affare perché comunque tenere un calciatore contro voglia non è mai, 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 mai mai una scelta corretta e che cos'altro ha detto Di Marzio? Di Marzio ha detto che Napoli si è spinto oltre i 25 milioni che aveva offerto i 25 più bonus che aveva offerto a Sassuolo è addirittura arrivato a 30 milioni di euro per Giacomo Raspadori e che ha l'accordo totale con Giacomo Raspadori cosa che vi avevo anticipato anche nel G7 Premium Club quattro giorni fa perché l'accordo totale col calciatore c'è già c'è l'accordo economico c'è l'accordo tecnico c'è l'accordo su qualsiasi cosa il giocatore veramente in questo momento non vede l'ora di andare a Napoli poi chiaramente se arriva l'offerta della Juventus che è più alta dal punto di vista economico e magari garantisce comunque uno spazio importante giochi la Champions giochi in un progetto importante giochi in un club clamoroso è chiaro che poi potrebbe tranquillamente tentennare e poi potrebbero essere facilitati dagli ottimi rapporti con la Juventus che non so se effettivamente voglia andare a sborsare effettivamente 30 milioni di euro però potrebbe anche essere che poi Sassuolo dice no guarda la Juve me ne offre 25 io lo offro lo do alla Juventus perché in futuro mi conviene perché mi passano quei giocatori lì in prestito perché ho degli ottimi rapporti e questo, questo, questo e quello e quell'altro perché potrebbe tranquillamente essere così però vi devo dire una cosa perché comunque sono stato molto critico e ultimamente sono in generale molto critico del calcio mercato del Napoli però bisogna dire che comunque il Napoli in questo caso secondo me ha fatto il suo perché offrendo 30 milioni di euro secondo me tu stai offrendo una cifra che è effettivamente quella che vale Jack Raspadori perché Jack Raspadori vale intorno a quella cifra soprattutto considerando il mercato attuale magari anche qualcosina in più però il Napoli in questo momento ha fatto il suo magari ci starebbe anche ritoccare leggermente l'offerta 30, 31, 32 40 milioni ragazzi sono veramente tanti non voglio neanche dire che sono troppi perché ragazzi con i prezzi che girano niente è troppo cioè comunque parliamoci chiaramente noi chiediamo 15 milioni per Petagna ragazzi e se Petagna vale 15 milioni posso anche capire che magari Raspadori ne valga 34, 35 esempio 40 ripeto sono parecchi però 30 milioni secondo me mi sembra un'offerta congura il Sassuolo non ci cacasse il cazzo accettasse questa offerta il calciatore vuole venire vi prego fatemi venire sto cazzo di Raspadori che io veramente non ce la faccio più ripeto questo incontro con la Juventus ci sarà in Napoli ci sta provando all'accordo col calciatore sta cercando l'accordo col Sassuolo e sarebbe a tutti gli effetti un grande colpo però c'è un mamofra c'è un mamofra c'è un mamofra c'è un mamofra e niente ragazzi detto ciò mi raccomando fatemi sapere quello che pensate voi con un commento qua sotto lasciate un bel mi piace iscrivetevi al canale in descrizione dovrete Facebook Instagram Twitter tutto quello che volete sarà lì giù troverete anche G7 Shorts magari pubblico teleclippi momenti iconici momenti divertenti a canale tutti preferiti noi ci vediamo la prossima volta sempre e comunque tutta la vita Forza Napoli